Come scrivere bene in corsivo? Ebbene in questo video di oggi il vostro narratore italiano che sono io vi illustrerà come scrivere bene in corsivo. So che questo video probabilmente potrà sembrare una presa in giro ma non lo è, parlo sul serio. Anche perché ho visto che qua su YouTube le persone cercano come compiere tale operazione. E per spiegarvelo e perché voglio essere diciamo così chiaro con voi vi spiego concretamente e non in astratto come tale, come compiere tale operazione. Iniziamo subito, bisogna semplicemente innanzitutto impugnare la pena in questo modo qua, questo secondo me è il modo corretto, non così perché è un'impugnatura eccessivamente forte, rischiate di compiere movimenti troppo forti, troppo estremi, troppo duri. Questo secondo me è il modo migliore per prendere la penna, io sono destro quindi la prendo con la destra. Iniziamo subito, scriverò io mi chiamo Leandro, vediamo un po' come viene, come bisogna fare per scrivere bene in corsivo. Io mi chiamo Leandro, ecco qua. Come avete visto cari utenti, l'importante è non staccare mai la penna. Se voi staccate la penna dal foglio rischiate di interrompere la scrittura e dato che si chiama corsivo, la scrittura deve essere fluente e non si deve staccare la penna dal foglio. Se io invece scrivessi così, io mi chiamo Leandro, vedete ho scritto malissimo perché ho staccato la penna dal foglio. Questa è la regola fondamentale. Questo si comprova anche dal frate frase che adesso scriverò, l'ultima, così vi farò capire meglio. Per esempio scriviamo Luigi è un mio amico. Luigi è un mio amico. Ecco, vedete, io ho messo dopo i puntini alla I, l'accento e l'altro puntino alla I di mio. Proprio perché non bisogna staccare la penna dal foglio. Bisogna scrivere con calma, non farsi prendere della foga e soprattutto seguire una certa linearità seguendo chiaramente anche la riga. E non staccare, ripeto, mai la penna dal foglio. L'ultima frase e poi basta. Ho trovato un foglio. Vediamo come la scriverò. Scrivendola bene, mi impegno piano piano, ho trovato un foglio. Dato che si tratta di corsivo, significa correre, 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 quindi è tutto legato, non è staccato. Ecco, questo è, secondo me, scrivere bene. Questa è la mia opinione, vi ringrazio, iscrivetevi, un saluto da Leandro, narratore italiano.